E siamo al settantesimo appuntamento con Siamo Europa, la finestra settimanale ogni sabato in Affari Quotidiani sulle opportunità per i giovani, i professionisti, gli enti locali, le imprese piccole e grandi che arrivano dall'Unione Europea. Opportunità come queste. Tappa modenese il 9 novembre dalle 17.30 nello spazio Ovest Lab di collettivo Amigdala, spazio di innovazione civica e riflessioni artistiche e culturali in via Nicolobion da Modena per il progetto Art Action. È un progetto che aiuti giovani, artisti visivi tra i 16 e i 30 anni o chiunque lavori con i giovani, insegnanti, educatori, operatori, a utilizzare l'arte per diffondere consapevolezza sulla sostenibilità, sulla necessità di combattere il cambiamento climatico attivamente. Nel corso dell'evento modenese saranno presentati i quattro materiali creati a sostegno dei giovani artisti. Si tratta di attività laboratoriali che saranno aperte, lo ricordiamo, il 9 ottobre dalle 17.30 allo spazio Ovest Lab a tutti. Interverranno l'artista Andrea Chiesi e il cofondatore di Cinema du Desert Davide Mutonia che arriva a Modena per aprire nuove finestre sulla possibilità di difendere concretamente l'ambiente. Dal 2020, l'ultima settimana di ottobre è dedicata in tutta Europa alla parità di genere. Il Parlamento europeo ha sostenuto e sostiene la settimana europea dell'uguaglianza di genere, focalizzata quest'anno sul tema Uguaglianza di genere e quali prospettive. Si registrano progressi in questo campo, ma resta ancora molto da fare. Questa è l'analisi in occasione della settimana europea sulla parità di genere. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, l'EIGE, ha presentato le conclusioni dell'indice sull'uguaglianza di genere. Quest'anno l'indice mostra i migliori progressi complessivi in materia di parità di genere nell'Unione europea dalla sua creazione. Dieci anni fa, su un massimo di 100 punti, il punteggio dell'Unione europea è in media di 70,2 contro 68,6 del 2022. La disparità fra gli Stati membri è però significativa. Alcuni Paesi hanno grandi miglioramenti, altri registrano una stagnazione, addirittura una perdita di punti nel grado di parità. La percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle società è saliti in Europa al 33%, corrispondente alla percentuale di donne nei parlamenti nazionali. L'Italia ha raggiunto un indice pari a 68,2, quindi siamo sotto la media europea. L'indice dell'uguaglianza di genere nell'Unione ha superato per la prima volta i 70 punti, mostrando una crescita importante. Parametri che portano l'Italia a collocarsi al 13esimo posto in Europa, posizione però migliorata comunque rispetto al 2020. Qualche esempio. La migliore performance dell'Italia è il settore della salute, ma le disuguaglianze sono fortemente, le disuguaglianze di genere pronunciate nel settore del lavoro, 65 punti solamente. Il nostro Paese si colloca costantemente all'ultimo posto fra tutti gli Stati membri dal 2010. Il Centro Europe Direct Modena ha sede nella piazza centrale di Modena in Piazza Grande, il piano terra dello storico palazzo comunale, spazio ribattezzato Gallerie Europa, con notare una vocazione chiara, quella di offrire informazioni e punti di contatto con tutto quel che avviene intorno all'Unione Europea.